Eeeh Che dire La live Inizia Adesso Vabbè Eeeh Si Ma buonasera amici Benvenuti in live Io sono Bordo Come state? Sparati Ho finito l'acqua Questa qua che state sentendo di sottofondo ragazzi Sono gli Alien Fucker Una band Pornogrind Slash Cyber Pornogrind Che ha utilizzato Hatsune Miku Ti giuro Ti giuro ti giuro Vabbè ma sta band sono assurdi Cioè gli Alien Fucker Ci hanno dei pezzi assurdi Si chiamano Alien Fucker Letteralmente fotti alieni E poi partono ste vocals C'è un loro pezzo Che si chiama All the things she said Che è una cover di una canzone pop famosa Però fatta In In versione tipo Gore Grind Che è questa La conoscete La conoscete La conoscete Questa No sono veramente pazzeschi Sono veramente veramente pazzeschi Sono incredibili Gli Alien Fucker Poi capito Ti chiami letteralmente Fotti alieni Ma che cosa vuoi Cioè hai vinto Che cosa devi fare di altro nella vita Cioè ti chiami scopo alieni Hai vinto tutto Ciao amici Come state? Io sono Pol Dovido il benvenuto in live Oggi una bella live Veserale Per iniziare Per divertirci Per stare chill È stata un po' Una giornata particolare Perché ho finito di registrare Il nuovo video E iniziare a tagliarlo Fidatevi Sarà uno dei video Più Più fighi del canale Non a livello di quello dei meme O a livello di editing O chissà che Ma perché proprio Quello che c'è all'interno del video È mind blowing E il fatto che ancora Non ne abbia parlato Nessuno in Italia Su questo fenomeno È incredibile Io spero che Dopo averne parlato Questa cosa diventi gigante Diventi pazzesca Perché sono veramente 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 curioso Va bene signori Ciao a tutti Sub Nessuno l'ha fatta Quindi a posto Vi ricordo Ecco il Prime Avete la sub gratuita E potete entrare nel gruppo Telegram Spoiler no Prima vi spoilerò il video Di questo lunedì Ve lo spoilerò probabilmente domani E Ipi a popi Ipi Ipi a popi Ipi a popi Ipi a popi Madonna Quanto non mi mancava questa cosa Ciao Ponte Ciao Berro Come stai? Sto bene Sto bene Sto giocando Guarda Sto giocando proprio All'epitome del gioco bimbo Ovvero World of Warcraft L'epitome del gioco bimbo Ma tu come parli? Ma che vuol dire? Amico Sono nato nell'87 Se il mio vocabolario Non fosse così aulico Ci sarebbe da preoccuparsi Porco 2 Va bene Nell'87 Ora voglio dire Non è che hai la barba lunga Hai i capelli lunghi Tu sei nato Cazzo che le due torri Che le torri gemelle Erano ancora in piedi Io sono nato che c'erano ancora due germani No no Io sono nato che sono cadute Che erano già cadute? Sì perché io sono di novembre del 2001 Cazzo Pochi mesi dopo Sì letteralmente due mesi dopo Perché io sono dell'11 novembre Ah proprio fantastico Esattamente dopo due mesi Pensa che io tipo Dato che all'epoca avevo tipo sui 13-14 anni Perché ripetiamo sono vecchio In quel momento stavo guardando i Pokémon E mi ricordo che praticamente interruppero Ash Che stava andando a menare qualche capopalestra strambo Per fare questa edizione straordinaria Con io che non avevo assolutamente idea di che cosa cacchio fosse Perché non mi sembrava tipo tutto sto bigovadial Io ho visto quello della melevisione Che l'han caricato su YouTube qualcuno Non mi ricordo Che cosa è cosa? Io ho visto quello della melevisione Che qualcuno l'ha caricato su YouTube Che tipo era stata interrotta per Eh più o meno sì Cioè qualunque tipo di programma per bambini Qualunque stronzate L'hanno interrotta perché dovevano far vedere questa roba qua E i miei genitori stavano tipo facendo il sonnellino pomeridiano Quindi quando io andai da loro E dissi guardate che c'è Non lo so Qualcosa contro le torri Ma non sapevo neanche dov'era Perché a 14 anni che cazzo ne sai Cos'è la merda? Beh chiaro Non ne hai idea Cioè non è diciamo così Allora what the fuck? Pokemon Esatto Bello Sì perché altro nel senso Mettiamo i puntini su lei I giovani d'oggi in realtà sono molto più interconnessi Sanno cosa è internet eccetera eccetera Noi all'epoca avevamo internet che stava appena nascendo tipo Quindi non eravamo ancora tipo interconnessi Non c'era Twitter Non c'era C'era malapena Facebook Quindi si sta che interrompevano la tv così Esatto Noi avevamo la tv come Ma tipo internet che è morta la regina Elisabetta Lo sapeva molto prima che quando hanno fatto l'interruzione di tutti i programmi Per comunicare la morte Esattamente questo che hai detto E quindi sostanzialmente Io non avevo idea di quanto fosse diciamo così enorme questa notizia che era arrivata E quindi i miei genitori stavano facendo la pennica pomeridiana E mi dissi guardate c'è stato un attacco alle torri gemelle E loro tipo non capivano perché All'epoca Uh state parlando del mio argomento preferito Ecco stavo parlando del fatto che praticamente No di quando interromperò le trasmissioni per la caduta delle torri Ah ok ok sì 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 Che paura madonna Eh sì perché appunto io non l'ho vissuto perché avevo due mesi Wow se hai detto che sei giovane no perché non credo Ero giovane quando l'ho vista però sì l'ho vista Ah ecco io avevo 14 anni Perché mi stavo guardando i pokemon appunto stavo dicendo al signor Eh il mio creatore è del 97 Ah ecco hai visto Cazzo sei del 97 te Sì 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 Ci scambiamo non so quanti anni sono del 2001 5 o 6 anni no? 5 o 6 anni? Sì Sono del 2001 10 anni meno di me Sì figo Assurdo E niente insomma quindi all'epoca io non avevo idea di che cosa fosse 5 cose che ti fanno ridere le torri gemelle No ragazzi dai Smettila 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 No 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 l'ha scritto la chat Super Mario su dai Amici benvenuti in live Oggi siamo con Berro Cristo Sedia E me Che però Cristo non c'è Ma dov'è Cristo? Eh non lo so Ma chi manca sempre Cristo? È vero Ma che per il ragazzo? Non c'è Cristo Vediamo se nel suo server Discord Così vado là lo sgrido e lo porto qui Perfetto E no non è su Discord Starà cagando Va bene Tra l'altro lui è uno dei più giovani tra l'altro di questo gruppetto qua Quindi non so magari starà facendo cosa fa il giovane Ecco ecco Cristo sta scrivendo signori Cristo sta scrivendo Un secondo e dentro Perfetto signori Abbiamo anche il Cristo tra poco Va bene Incredibile Quindi siamo proprio i quattro originari Cristo è assente Mettiamogli l'assenza Oggi non si è presentato alla riunione dei nuovi mates Dei nuovi mates Ragazzi A voi arrivano le sub raga Tra l'altro Sì una mi è arrivata Sì Ok arrivano Ogni volta che la gente tipo si Si come si chiama Si Ciao Warworks Grazie al Prime bello Non mi ha mutato scusatemi Posso parlare Poldo Devi continuare a fare i soldi Ok Scusami Pensavo fossi mutato Sì Ciao Warworks Grazie al Prime bello Bacioni Entra nella mia chat Sì Mi chiede notizie di noi altri Di questo gruppo qua Chiaro Ogni volta utilizza un nome diverso Ma in qualche modo so comunque a chi si sta riferendo Perché dici tipo non lo so In che senso Oppure i compagni di merende I nuovi mates I compagni di merende Cazzi i compagni di merende Era incredibile Di chiamarci Los Hermanos Los Hermanos Solo perché è spagnolo e fa ridere Perché sennò in realtà C'è molto Dallo Spagno Los Hermanos Los Hermanos Però ogni volta che dici De Los Hermanos Io ti posso Sono autorizzato a parlare Per 30 secondi spagnolo Non ho capito Per carità di Dio Ecco ogni volta che dici Los Hermanos Io sono tipo Autorizzato A parlare per 30 secondi Di seguito spagnolo Tra l'altro posso dire Che lo dici In un modo Proprio Los Hermanos Tra l'altro signori La figata di questo gioco Che andremo a fare stasera Mi sono dimenticato Di togliergli Gli overlay Perché stasera Non abbiamo presentato la live Ma è una live Molto carina E Il gioco che faremo stasera Ha una figata Perché è interamente In stop motion Cioè proprio È stato realizzato Con delle Con del Proprio con Con la clay Come si chiama Con l'argilla Non è argilla La clay Tipo la plastilina Avete capito Poi è stato Portato In Nel Al computer Ed è stato animato Ed è stato creato Il gioco così Quindi è interamente Handmade Nonostante possa sembrare Magari un effetto Fatto in post No È interamente fatto A mano E sta cosa è Fighi È il pongo Ecco non mi veniva il nome È interamente fatto in pongo È fighissima Come roba E niente Spero vi piaccia Il gioco di stasera Perché adesso Lo introduciamo bene Miau Mi sembra Talmente tanto Miau No Poldo Non fare miau Per favore Sto facendo la kitty girl Sedia Puoi intrattenere Velocemente La mia chat E devo farmi Il piscione atomico Certo Certo Il piscione Cioè proprio lui Allora Innanzitutto Non so perché Lui ovviamente Pensa che io Non faccia niente Che io non intrattenga La chat Quindi adesso Devo andare a intrattenere Anche la sua Buonasera chat di Poldo Ma come state Pensa che dopo Non l'ha chiesto a me Ma l'ha chiesto a te Cioè quindi vuol dire Che comunque sia A più stima Dei tuoi confronti No secondo me Perché pensa Che io non faccio niente Mentre tu sei un pochino Più serio come streamer Buonasera Andrex Ma ragazzi Ma come state in chat Ma ciao a tutti Vi posso recitare Una poesia Per caso Non ha niente A che fare Con il Pietro Pacciani Se volete Lunasera anche a voi Lunasera anche a voi Chat Chat di Poldo Spammate Pompelmi Sì per cortesia Venite da me Allora Dato che Poldo non c'è Volevo suggerirvi Di venire nella mia stream E fare la sub Così che Io Possa Fare i soldi E Poldo no Oh tra l'altro Il mio mesi versario Su Poldo Sedio Da me Ok perfetto Va bene Quindi se metti Ita Espo come lingua Su Twitch Sei autorizzato Di autorizzare la parola Con la n No La parola con la n Napoli per caso Sì è proprio quella Ok fantastica Scemo 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 Senso Non è che Esatto Poldo Poldo Non mi hai ringraziato Per la sub Sto aspettando Oh grazie La 7 e 2 cam Per il quattordicesimo mese Fate la sub da me Meno male che il bottro Non l'ha letta Bastardo Mi ha pregato Ma ragazzi Ma dove cazzo è Cristo Qualcuno gli mandi un fax Per l'amore Chiama i genitori Va bene Chiama i genitori Chiama i genitori No Sì sì Chiama i genitori Tu mi hai mandato un fax Poldo No Mai No Prima volta Ti manca anche questa esperienza No in realtà Nemmeno io Non ho mandato mai un fax Ma perché Poi li diseredo Proprio come Ciao coccolone Bill Grazie del terzo mese Bello bentornato Oddio no forse un fax L'ho mandato No Ok l'ho mandato Niente Hai la barba Hai la barba No 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 Comunque prima stavo Introducendo ai miei sub Hai la barba Hai la barba Che cazzo Prima stavo introducendo Ai miei sub Il gioco è quanto fosse figo Il fatto che è interamente Fatto in pongo Sì È molto inquietro E questa cosa è finissima Io l'ho visto granché Quindi Adesso lo spieghiamo Se solo arrivasse Tipo Nostra santità Allora aspettiamo Vabbè intanto spieghiamo Grazie lui Grazie dei cento miss Grazie Capitan Jack Del Prime Lo spieghiamo E poi quando giochiamo Allora Se volete ve lo spiego io Che l'ho proposto Allora La ricerca è nata Dal fatto che Stavo su YouTube E l'ho copiato No non è vero Sì in realtà sì Però Come tutti i content Chiaramente Funziona così Questo lavoro Funziona così Giusto Allora no banalmente Questo è un gioco Il cui scopo è Nascondersi E diventare l'impostore Come però In un modo nuovo In un modo innovativo In questo gioco Devi fingere Di essere un NPC Ok Quindi c'è un cacciatore Che è quello Che deve accorgersi Chi è La persona In questa mandria Di NPC E sparargli E poi c'è Il giocatore Ovvero Ovvero uno di noi Noi quattro Cioè tre di noi quattro Scusate Che dovrà Sempre ammesso Che arrivi Che è più tempo Esatto Che deve mischiarsi Tra questi NPC Deve proprio Comportarsi da NPC Quindi stasera Ci alleniamo A comportarci da NPC Voi siete bravi A fare gli NPC Madonna La vita Lo faccio continuamente Aspetta Aspetta Io faccio i miei NPC preferiti Vai 65 euro Per una pizza Col prosciutto Ma siamo matti Ma di che cosa Ti faccio la versione Ti faccio la versione La versione Tipo di quello Che l'ha copiata Però è napoletano Vai 65 euro Per una pizza Ma che siamo matti Ma che è fatta Davvero Va bene Molto bella Adesso 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 Io faccio il ricco Io adesso faccio il ricco 65 euro Per una pizza Sarà probabilmente Fatta con i migliori ingredienti E servita dal miglior personale Queste cose Fanno aumentare Il pezzo del prodotto Allora io faccio Mirko 65 euro 65 euro 65 euro per il pizza Ma siamo cacca Cosa stai dicendo Ma siamo merda Ma siamo piscio Io voglio Ragazzi dobbiamo fare un emote Con un pezzo di pizza Io non sono uno streamer Oh Risorto Finalmente Ci tenevo a chiedere scusa A tutto il mondo intero Perché è completamente colpa mia No In realtà no ragazzi Adesso sto Scusate Chris stava tornando dalla questura Di Ferrara Per Per la denuncia Per la sua ora d'aria Che gli hanno dato Per venire live con noi Ormai in carcere Ma oramai Eh sì È certo No Quanto è 50.000 euro Di risarcimento Esatto Devo vendere il mio canale Sul taker Grazie Come è andato in quest'ora Ti chiedono Come è andato in quest'ora Niente ragazzi Solo il peggioro delle cose Hanno aumentato la sanzione Ah Regione Europa È fischiato sul banco del giudice Europa Come si fa a giocare Io sono Nella Poi siete nel menu Io non ho neanche aperto il gioco Sto giocando ancora World of Warcraft Devo prendere delle missioni Delle cose Allora Dovete andare Sempre molto professionale Berro Beh cazzo Io sto continuando a fare Quello che stavo facendo Io a differenza vostra Sono cazzo da due ore Che sto streaming Mamma mia Mamma mia Allora sostanzialmente ragazzi Adesso io creo un game Poi dovete andare su Private E ci sarà room code Dovete inserirlo Però senza farlo vedere Su schermo Oh no Ma la mia chat Lo voleva così vedere Faccio tutte le cose per bene E poi Mi addio comunque Quanto è figo lo stile Quante modalità ha piuttosto Io non lo conosco sto gioco Sono solo che hai fatto di Pongo 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 Devo dirlo anche io Vero? Il re In cui I cacciatori Devono proteggere Il re E i suoi nobili Dagli assassini Nascosti nella folla Quindi voi dovete mischiarvi Tra gli assassini Se no c'è la modalità Diamond grab In cui dovete collezionare Più diamanti possibili In giro per la mappa Senza farvi trovare Appunto Dai seeker Io direi di iniziare da questo Perché mi sembra Quello più semplice Mi sembra molto figo E poi passare A kill The 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 king Prima di fare questa cosa qua E dato che siamo tutti quanti partner Possiamo effettivamente fare le Io ho già Ma noi già stiamo facendo No? Tra l'altro non so se avete La connessione che va a 3 megabyte Quindi niente live sul mio canale So che state tutti piangendo Però purtroppo Si vede il codice Accidenti Comunque Cristo Se hai problemi In basso a destra C'è un pulsante per Il tuo psicologo Porca altra Dica Possiamo sempre Prestarci No no C'è proprio un pulsante Che dice Aiuto sto avendo problemi Mi serve un adulto Esatto Lo sto per cliccare Signori Vi ho mandato Il codice Su Whatsapp Ah su Whatsapp Fico Un adultier adulto Wow Allora Datemi un secondo chat Che non vi devo far vedere il codice So che lo volevate vedere Però ragazzi Oh So che siete già Con il codice Con il gioco aperto Per venire a Poldo ha detto così Non Non mi Non mi Mi dispiacerebbe Mi dispiacerebbe Eh Ok Sedi è entrato Beh ciao Sedi Ci siamo Guarda Ma sei fanno di bongo Non trovo il codice L'ho mandato su Whatsapp Ah cazzo Non trovo il social Chiuso di meno Ok Allora Devo fare start Grazie Il 27esimo mese È bello Bentornato Ma siamo matti Vi piace la censura raga Qual è la censura? Ho messo il Woyak Quello che si gira indietro Indica Indietro Per proteggere il codice No Non l'ho visto Lo voglio Lo volevo vedere Ok Ci sono Bellissimo Ciao Cricco Grazie del Prime Ma no Parlavo con Con la chat Ah Ah scusami No Marione Adesso tu dovresti Adesso tu dovresti dire Pensa sedia Che pensa che io Parlo sempre con lui Ma ci siamo tutti Guarda non ti siamo belli Match options Aspetta un secondo Che devo Ma donna Game mod Ok ci siamo Io sono ready Total round 3 Posso selezionare l'avatar Fico Già adesso Che siamo dentro La lobby Già non si vede più Il codice Vero Quindi io posso Effettivamente Far vedere il gioco Ma se io metto Max 4 player Max c'è Ok Io Io Vabbè sì Tecnicamente ora il codice Si può far vedere Per commesso Max 4 Max power Max pezzali Volevi dire Game dove cazzo è Max player 4 Vabbè Max pezzali Signori Hanno ucciso Mettete ready Mettete ready E ci siamo Io ci sono Ma devo fare Selezionato Un attimo Ti devo personalizzare Questa fantastica Ah posso cambiare l'icona Fico Mi è piaciuto Che prima Mi ha detto Congratulazione Hai vinto Babbo Natale Per essere entrato Durante il nostro evento Di dicembre Siamo a marzo Oddio Questo è bellissimo Qualunque cosa sia Questo è bellissimo Io sono un caffè Caffè Io non ho niente A sinistra A sinistra Si può selezionare l'icona Cioè select avatar E select icon Ah Select icon Ecco Io sono Io sono un caffè Sedia Che bello Vai mettete pronto Partiamo Per il gruppo Telegram Per il gruppo Telegram Berro 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 Start Ong inizia Posso dire che la grafica Fighissima Infatti Stavo dicendo Bellissima Select item Allora Collezioni diamanti Comportati da NPC Evita che il Seeker Ti trovi Usa gli item Per aiutarti A non farti trovare Voi siete un cacciatore O un Io sono un NPC Chi è il cacciatore Allora Magari lo dicesse Chi è il cacciatore Ah è berro Anch'io Anch'io Certo No No Cristo è uno di quelli Che prende i diamanti Berro Tanto Come si prendono Fissicamente i diamanti Questo sei te Vero Eh Cos'è sto cagai Cazzo ragazzi Porca troia Berro fronzo Berro fronzo Sì Lo sai che io e te siamo dei veri amici vero? Sì Quindi non mi sparare se mi vedi per grazie No no Ma tra l'altro io guarda c'ho un talento proprio per capire le cose Mio dio Dio che ansia Ma mette un terrore allucinante Berro Però è fighissimo Ti va di fare l'assassinio Ma se io sparo a tutti e basta non è più bello No perdi punti Ah Uno l'ho trovato Non ci posso credere Eh oh cazzo Ti ho proprio visto mentre ti mettevi nel culo un diamante Figo Eh Signori ho perso come voleva si dimostrare Bero è fortissimo Ma non è vero Non ho preso neanche uno cazzo No ne ho preso uno Berro mi spaventi E non poco It's time It's time Che ansia È tornato Magu È morto Cristo Noo Cristo Ma sono fortissimo Cazzo Cristo ha preso 21 Ma sono mio ragazzi Grande Cristo Grande Cristo Mamma mia Yukin grazie al 27esimo Kitsch grazie del secondo mese Ma poi poi gli hai sparato in faccia? Gli ho sparato in faccia a Polto e a sedia due volte sembra Grazie Eh oh che cazzo devo fare Ti odia Allora c'è stato un momento dove Berro ha detto Questo sei sicuro tu E ha sparato a quello vicino a me Hai visto Fichissimo Che ansia Fare stifolo in porto Allora adesso sto pian pianino cominciando a capire come funziona Guarda che Non è facilissimo Sono un coso Un shooter Un runs Oddio C'ho pure le cose invertite Becca di questo Ma come mi hai visto? Io ho gli occhi e le orecchie ovunque Ah ma tu vedi quando Quando un diamante sparisce Eeeh Macarena signori Potrei essere bravo Potrei Come l'ho detto Sì ma questa mappa si vede tutto Eeeh Fico Cos'è sei timida Ragazzi però dovete anche fare qualche mossa Madonna che ansia Guardala Madonna Madonna Stream sniping Ragazzi io Chiamo lo stream sniping Stim sniping Cazzo però siete degli infatti Stim sniping Ragazzi andate a fare stream sniping E suggerite mincia Ah no mi sono mutato Scusate No dai Che merda I am very strong Cristo Cristo Questo di Sparkle non sta parlando Sono morto Concentratissimo Ragazzi ho concentrato Cazzo Dov'è berro Ragazzi così non si può giocare Io prendo provvedimenti No hai ammazzato un cristiano Allo Io so chi sei Io so chi sei Meno male Io so chi sei Io so chi sei Vai spara sedia No L'hai mancato No l'hai preso Che palle ha vinto sedia Dalla azione Verro fronzo Jfk simulator No ragazzi no No non è Jfk Semplicemente No Jfk Una volta che perdono Ti sgamano immediatamente Come fai? Fronzo Bidi 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 Devi comportarti più da NPC Come si fa? Mi schiarti talmente bene Che non Stavolta ragazzi Non sono fatto Per il suonere NPC Mi dispiace Io invece sono fatto Sto nella sed Sto nella Stream sniper No pane Pane Smettila Pane Vattene di là Pane alba Pane bianco Scappa 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 Con pane alba Il grissino tenta tenta tentatore Tra l'altro Tra l'altro bellissimo Io non avevo capito Nemmeno da dove succedevano Le cose Molto feico Molto feico Molto feico Ragazzi Non vi posso dare Un pompelmo fisicamente Quindi dovreste Dovrete solo pensare Perché la mia gente Vuole il pompelmo È una cosa Come si dice È un eufemismo? Pane alba Scappa 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 Con pane bianco Ma io non vedo Che ansia Cristo Che non parla Sta là Madonna il radio Dice niente È fattito È concentratissimo Da oggi Cristo Da oggi Cristo Lo chiameremo Pablo 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 Perché Pablo? Pablo È un mio amico A cui voglio molto bene A Madrid È il Pablo È il Pablito È il Pablito È il Pablito Non so neanche quale sia No è la canzione Della pubblicità Ragazzi Ti stiamo Prurururuando Prurururuando Che cosa ho fatto? Non l'ho fatto apposta Pom 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 devo canticchiare perché sono stato preso ragazzi la canzone di among us il meno 15 di prima infatti secondo me cristo non sta non sta in live perché deve stream snappiamo scoperto vero adesso in condivisione schermo in condivisione schermo allora continuiamo perché mi sta piacendo mi piace mi fa menino un po d'ansia però ho bisogno di una cosa giocherò forse meglio un po meglio rispetto allora io dovrei avere la canzone di among us quindi ora la metto ok ok bravo alice mi ha appena scritto c'è un nano maranza io non ma dove sotto casa sua sedia metti pronto mannaggia la domanda dell'ultima cena calmo berro calmati no io ho la canzone di among us sotto chat ditemi se vi piace berro nervoso perché prima ha giocato la schifo sì è vero ci sarà solo questa canzone ammetto la live cosa no sto scherzando poi la bocca come cazzo si fa ma sei il sole ah ho capito come si fa fisico in a perk in a perk in a perk in a perk che bello che sei però mi sento molto come si chiama quel programma per bambini terrificante con il sole tipo bambino i tele tabers quello più quello lì proprio lui madonna sat però essere osservati da questo cazzo di grande fratello ma chi è che fa chi è che sta facendo il head shirt come io ho fatto questo con il cute che fa inconexposto che fai dio mio dio paulo smettila madonna che faccia che hai un libro pazzesco polano che ansia quale preso berro quello la testa dicendo sì sì sono quella persona lì c'è da puoi anche smettere di camperare porco due sedia no preso berro non so come facendo niente madonna c'ho la canzone diamo un gas sotto sto facendo un casino a quindi effettivamente se ti chino vai 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 sedia prendi qualcosa sbrigati così no ti avevo visto eri quello col codino in giacca e cravatta bastardo e ma voi giovani siete troppo svegli non so se io io te lo giuro se avessi le braccia in questo momento starei da bando fai fai tipo bisogna bisogna fare anche la serie due braccia da tutte quante quelle cose terrificanti che da tutte le chat se volete seguire un vero pro di questo gioco sapete cosa fare a me mi capito sempre sto mappa pipi pipi o questa è tosta è questa è tosta questo signori questa è tosta perché adesso sapete giocare potete smetterla anche adesso come si è nascosto sotto il ponte ho sprecato tre colpi ma nel senso che hai sparato delle persone oppure ho sparato ma mi ha preso non mi ha preso la persona ma mi ha preso il ho la cacca nella mutande la cacca fonda la cacca fonda avete presente la parte in cui dicevo che ero pro si ma cristo no non lo sono se io faccio schifo faccio schifo faccio schifo dove si bro m Fottute mosche Raga mi state facendo venire l'ansia però eh non siete normali Come è possibile che non siete nessuno di quei Madonna ma siete un cane ma come fa Ma nessuno di voi ma fate schifo Nel senso che c'è calmatevi cioè non è tutta sta cosa Non c'è mica Ciccio Gamer Checco Bomba e gli altri che avevano il team Adesso devo sparare io e io ragazzi non sparerò un colpo per mantenere il vantaggio Ci sono i pinguini Madonna spammatelle in chat per sedia Madonna che ansia però sto gioco non va bene Non va bene skill issues vi ammazzo raga Guarda chi doveva mettersi le mani nel culo Ma poldo è un No stavo per dire cos'ero No però Scusa bro Stavi per dire cos'ero Tecnicamente siamo contro quindi Effettivamente Ah davvero? Eh sì Allora berro Porca troia Berro berro Allora poldo Poldo Diciamo che non è Non è proprio normale Non è proprio Non è proprio Comunque la skin di poldo è bellissima Bellissima C'ha gli occhi Che storto Adesso compro il primo Cosa ti sei perso? Ok stiamo giocando a just act nut A just act nut Posso dire che è uno scioglilingua questo nome di questo gioco? Just act natural Ma si può dire infatti che poldo è un po' Diciamo peloso Peloso Ho appena sterminato un innocente solamente perché pensavo che Va bene ragazzi ci rifacciamo al prossimo round No ma dov'eri? Dove cazzo eri? No Io ho fatto pochi punti Quasi Però ho migliorato sensibilmente Il primo di me Scusate Grazie Scusate io mi sono esaltato troppo Io sono il boss di Catania Il boss Ragazzi mi sono emozionato troppo Il boss di Catania Mi sono emozionato troppo per questa vittoria Mi sono emozionato un sacco Allora io devo dire che ho avuto match migliori Ok Nel frattempo Io voglio cambiare Ah il cappellino Eh ma è tutto premium È tutto premium perché sono delle Aspetta che mi spalmo Dicona è molto carina Per fortuna sono arrivato in questo gioco per l'evento di Natale Ok Uh voglio essere l'insalata Fico Io fra ho toppa fame Cosa faccio? E mangia ti Mi faccio un panino Chiamare un hamburger Tra l'altro io sto mandando al loop la canzoria Chiamare un hamburger Non so come non mi hanno trucidato in live Allora Non sai come ti hanno insultato altro Allora ragazzi Prima di procedere Mi faccio un panino Va bene? Ma stai scherzando? Facci un bel food porn qua davanti a noi Dite che fai il panino Sul serio? Sul serio adesso stanno andando a prendere È effettivamente andato a farsi un panino È vero è vero Allora signori Benvenuti Oh l'hai smesso Adesso questo torna con un sassofolo Le sue solette stronzate da Poldo Allora Questo è il pane bianco Aspetta un secondo Aspetta un secondo Poldo Stai zitto un attimo Fammi Che ho fatto? Silenzio Scusa Devo vedere il pane bianco Aspetta Perché io non voglio neanche altabbare Per paura di che si Fortunatamente Fai vedere il pane bianco anche in live per piacere Certo Guarda Questo è il prosciutto Perché Poldo dice Devo fare il content Non posso stare senza fare il content Ah Guarda è una fetta di prosciutto Perché sono affamato Siamo mati Che patente che devo avere Gliene metto pure un'altra Guarda Madonna Ma sei un ciccione Doppia fetta Di prosciutto conto Ma lui si è poi Un ciccione Ma vi rendete conto? Poldo smettila di inglobare calorie Io non ho parole Io non ho parole No Volevo un panino Deliveroo Fatelo ordinare Ma no Volevo farmi un sandwich Un sandwich? Ah Sono pronte per giocare Ti ringrazio Ti ringrazio davvero Adesso possiamo continuare a giocare Meno male Volevo un panino Voleva un panino Molto gente Eh Voleva un panino Lui voleva un panino Voleva un panino Voleva un panino Con pane bianco poi Che bastardo Anche io se abitassi da solo Mi farei spesso panini random Quanto costa quel panino? Bellissimo No sono già Allora Io I panini mi costano 4 euro 4 euro? Minchia L'uno cazzo La vera è così costosa? No no L'uno no Cioè il prosciutto costa Jesus Allora sto guardando Madonna Sono concentrato Manco Piripim 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 Ma siamo matti? Raga però Cioè fate qualcosa Perché se no mi viene Mi viene Il magone Guarda io pensavo Di prendere un diamante Esattamente quando C'ho il tuo laser Sulla schiena Così so che mi stai La cosa brutta È che proprio Gli occhi di sedia Sembra che ti stanno fissando Madonna Infatti che ansia In questo gioco Qualsiasi cosa Ti sta fissando Se la guardi bene Mamma mia però Quanto siete tryhard Certe volte Perdonami Fra io sto mangiando Quindi tanto mi fermo Comunque ho capito La tattica di alcuni Secondo me Sì Spiegacela così Cazzo Diciamo se hai ragione Ancuore Ah ma hai fatto La tattica Quella Cosa Quella di Palermo Sì sì Va bene va bene Va bene Il boss di Palermo Sei del boss di Palermo Il boss di Catania State schifo Davvero schifo Molto schifo Lo so ragazzi Ah mo state tutti di qua Pezzi di infame Il boss di Catania Venite di qua Venite venite No davvero Davvero venite Il boss di Catania Il boss di Catania Chi è il boss di Catania Ma com'è possibile Loser Ah uno l'ho preso Cazzo Chi hai preso Cristo Misto Misto is powerful Madonna 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 Poldo Ero tutto il cazzo Vabbè Vabbè Pazzesco Ma siete Guarda che traiardo Stavo pure mangiando Che pezza di merda Stavo pure mangiando Che ci vuole che stavi mangiando Che potevi anche Vabbè Posso non fare il cotto Ogni tanto mi fermavo E mangiavo Comunque ragazzi Dobbiamo scegliere Bene i giochi Non tanto se è contento o meno O se sono competitivi Per sedia Perché poi finisce la live Con il suo cuore Mi fa male Mi fa male Secondo me Sedia ogni fine live Con noi Piange Vero C'avete ragione Io sono leggermente Competitiva È un bordello Questa cosa Competitiva Orale Assolutamente sì Chi è che sta Facendo le cose Io mannaggia al Cristo No Quello È perché Dovrei evitare Di bestemmiare Che non sono sul mio canale Non è sul canale Signori È pieno di sushi È pieno di Ma dove Ma dove Mister Beast Signor bestia Per caso Proprio Un famoso Signor bestia Ragazzi Madonna Che ansia Io sto Per la sedia Che mi prende Le robe davanti al naso Io non posso neanche snitcharlo No Shut up Non posso neanche Tipo snitcharlo Ma come no Si dice Tra voi giovani Cazzo Ti ho visto Ti ho visto Adesso ti ho visto No Berro Che devo fare Berro Berro Mi sei crepato Davanti agli occhi Non hai idea Ti sei pigliato male Basta Eh no In realtà No Sono felice Che adesso Sarà una Uno Uno Con Vabbè Però sono un cane Cazzo Dai No Maledizione Ma dove mi hai trovato Perché stavi scappando Come un malavitoso Con in mano Uno stereo Appena ciulato Cioè Bravo Sedia Ancora vivo Ma dai C'è il codino C'è il codino C'è il codino Niente Il problema mio ragazzi Che ne uccisi 850 sbagliati Uff Eh Sì Ragazzi si vede Ci sono I pali tre round No Tre round Ma come sono tre Ma Boh Sì Forse Cosa Tutti quanti Ciao panino Panino Che bello Che bello Panino Non ci posso dire Allora panino Dice sono E Entrato Cioè non è anche appena E Con due p Ciao Fran Pesca Grazie del quinto mese Dale Punk Grazie del quattordicesimo Air Paradisi Grazie del prime Eh Mo Mo sono cacchi Ah è la Sede del gatto Che è facile No no È Berro Fronzo Berro Fronzo Tra l'altro Berro Fronzo C'è una delle skin Più belle Secondo me Berro Fronzo Comunque questa mappa È un po' bastarda Effettivamente Sì è mega bastarda Questa qua Perché qua Basta che ti nascondi Un pochino Ti fermi Qua è veramente Abbastanza easy Infatti prima ho fatto Stamboor guys Ma come non è vero Che non eri Amboor guys Ne ho uccisi due Che non eri tu Che non eri tu Che non sei stato Che non eri tu Che non è bisti Che non facesti Madonna Polto È come tipo braccio Di ferro Si mangia un panino Ed entra in modalità Tipo zen Ma io non vedo più diamanti Comunque Ma io non vedo più Le persone Non siete normali Quei due Perché pane bianco Di stare abbiando Perché uno spettacolo Macabro Perché lui È un pane bianco Ah è vero Io ho perso Un sacco di punti Ragazzi non vi vedo Siete troppo bravi Ah no ecco Non ci posso credere Tu prendi Me e non Cristo is powerful Che era vicino a me Che devo fare Un culo Se ti E vabbè Ma com'è Se a 5 secondi Dalla fine Ma come hai fatto A prendermi Ma Hai sparato a cazzo Di cane E ovviamente Doveva vincere Poldo No Guarda quanto cazzo ho perso 49 punti Ma no Sei tu 49 punti Ma scus No Sei tu 22 Siamo Perché allora tu sei prima Perché vieni prima In ordine alfabetico Non ho capito Questa cosa Secondo me Io sono secondo Comunque Come serie Sì Io Non ho parole Oh chest opening Hai sbloccato qualcosa Chest opening leggendario Hai sbloccato qualcosa Che cosa ho sbloccato Ma come si fa No eh La caca La caca Cosa ho sbloccato La caca Infatti si ragazzi Non ho capito Secondo me è regato Secondo me Poldo sta stream Sniperando Tutte quelle cose No no Te la assicuro Io sono il re di Catania Allora facciamo Allora Vediamo se rispondi bene A una domanda Se rispondi a questa domanda Vuol dire che stai snaperando Allora Dimmelo 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 Secondo te Sì La capitale della Danimarca Lego World No raga Non sta Stream Sniperando Comunque qual è la capitale della Danimarca Che grande investimento Copenhagen Copenhagen è vero Ma cambiamo modalità Facciamo quella del re Tipo E com'è quella del re Non ho capito Allora Quella del re sostanzialmente Il cacciatore Deve riuscire a proteggere Il re E i suoi nobili Dagli assassini Che sono nascosti Nella folla Noi siamo gli assassini Esatto Wow Fico E il boss di Catania Esatto E il boss di Catania Io Boss di Catania Uccidi il re Ammazza il re Ammazza il re Fico Vediamo Dagli e poldo raga Però non è che mi potete Donare i bis E scrivere Dagli e poldo Che palle Sabotazione Grazie per i cento Grazie per i cento Madonna Guarda Sono Ma dov'è il re Chi è il re No ma io non ho capito Ah ok Il re è segnato Da una vita Visto Credo che ci siano Molti re Ci sono molti re Fico Ah quindi è letteralmente La stessa dei diamanti Però con i soldi È morto un re È morto un re Se ne fa un altro Facci una canzone Madonna Che Ma Berro Così Spara Ha sparato Chi mi viene a liberare Ragazzi Per chi ci si può liberare Adesso Sono nella Nella gabbia Ciao Cristo Sei nella gabbia del leone Abbassa i pantaloni Abbassa i pantaloni Abbassa i pantaloni Subito Abbassa i pantaloni Immediatamente Ma sicuro che il governo Non ci vede nessuno Ecco fatto Come cazzo sei fatto Oh mio dio Non sopo sta cosa Bisogna prendere X Non sapevo Ragazzi Ho giurato tutto il tempo Senso sapere sta cosa Davvero? Sì Però che è un casino Ma c'era scritto letteralmente All'inizio Sì Non l'ho fatto Vabbè Berro così perdi Un sacco di punti Mi sa No Berro dai Vieni a farci compagnare Ci sentiamo un po' soli Non perdi punti Dove sono i re Dove sono finiti I re I re The king The king in the back The king in the north Ammazzalo sedia Vai sedia Abbiamo vinto Seekers win No No cazzo Ci stavo riuscendo Ha vinto sborro fronzo Vaffanculo Ma perché ho fatto così tanti punti Per una vaccata del genere Era meglio quello dei diamanti Secondo me Ma più che altro In queste qua Non perdi punti Se spari gli NPC L'unica cosa è che c'è Gli ammo che si ricaricano Super lentamente Beh Buona sapersi Giusto che te lo dica Che so che sei un palino enjoyer Oh mio dio La death star La morte nera La morte Il problema è che Non ti dice Tipo nemmeno dove No ferro bonzo Sono stato Ferro bonzo Ho preso Ferro bonzo Ferro bonzo Ferro bonzo C'è un sacco di persone Da proteggere sta piantina è apertissima tra l'altro ma voi potete liberarmi in quanto no tra l'altro madonna quanto che ansia la morte nera che ti guarda santo dio la morte nera sempre la presento che hanno ucciso non lo vedo hanno ucciso l'uomo ragno dai veramente non potete venire ad aprire su secondo me potete venire ad aprire bravo Cristo a morte la aristocrazia oh no che palle bravo comunque l'unica cosa è che adesso questo qua adesso ho capito di nuovo come funziona io non devo smettere di fare per primo l'assassino in queste modalità di minchia perché io non l'ho capito ti ho preso ma che cazzo ma da quant'è che mi stavi guardando ma come funziona bro ma come funziona bro è brutto guarda guarda franzo non lo sfottere la mia giovanietta perché viva tier ma non sono tier cocae ci sta giocando a scacchi contro sushi e che vuoi o me ne fotte ma me raggiungo la lista delle cose che non me ne fotte mi crolla l'autostimo per colpa sua ragazzi ho scoperto il modo di andare aggressivo il problema è che qua i diamanti scappano ah è vero i diamanti scappano chi è che sta facendo l'amore è cristo buongiorno poldo ciao che ansia che ansia madonna madonna la chat di poldo è totalmente disconnessa dalla live si si vabbè succede sempre io non li trovo sta mappa fa schifo si è abbastanza sta mappa è un casino da sedia sono morto non posso uscire dalla gabbia maledicione maledicione le roi c'est vive le roi c'est vive c'est vive c'est la pono lo so il francese godò è il momento godopoli sul serio fico così sembra no raga no raga dove cazzo state la sedia a due mani no ragazzi no no ho poldo ma perché è sempre poldo comunque le roi muori bastardo ragazzi potete cercare come si dice il re è morto in francese vi ringrazio ho fatto schifo schifo no chi ha vinto berro fronzo ha vinto berro fronzo e che fai pig squeal quando parli di berro fronzo ti è piaciuto è bello che dice spero che questa vittoria farà riconsiderare a mia moglie il divorzio cosa? nel senso che io spero che mi divorzi dopo questa vittoria o spero che non lo faccia più non ho capito davvero non ho capito no ma che brutto la mia frase dice I hope this victory will make my wife reconsider the divorce e invece a me la leggo anch'io che palle allora comunque questa modalità non è male l'unica cosa è che io non ho fatto il coso quindi forse dovremmo rifarla vai ma è possibile che tipo non sia come si chiama decidibile in anticipo quante manche si può fare non è il senso che lo può fare si 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 può fare il francese ragazzi ha detto manche 5 round e come cazzo ne chiami scusa le manche i round facciamo facciamo 5 round allora che sei britannico che cazzo vuol dire scusa facciamo 5 round ti vedo il cazzo ti prendo dentro come si chiama 5 sarà volgia cazzo per un incidente in realtà ti ho legato i lacci delle scarpe insieme berro berro hai visto quella puntata dei simpson dove un certo punto omer dice garage e e e e e e dice è arrivato il francese e lui dice si ma perché come chiama il garage è buco per l'auto ragazzi comunque si possono liberare le persone se vai nella prigione premi spazio e le fa liberare fate incazzadissimo è ramosa perché quando viene il live con noi sta sempre un pochino arrabbiato berro tutto a posto ma si si ok bene chi è che sta facendo il il papagallo il papagallo letteralmente come letteralmente come ma che cazzo no ragazzi berro spara a caso ma dai ma non vale sparare a caso questo del dio c'è scritto c'è scritto cosa ti vedo là che sei là che annusi il culo al re dovrò ma mi è passato lui vicino io ero fermissimo io si è avvicinato il culetto beh sentia devi liberare o uccidere tutti e tre decidi minchia ok no va bene vi libero eh come non so come si fa non lo so non lo so però io devo ringraziare una sub e non è un mio problema la ringrazio io allora ah ma ci sono le incorrect kills left ok ok grazie grogu allora dove siete ah siete stiamo in carcere siamo siamo guardate la tattica di dire io sto sto andando sto andando a liberare la gente cioè il re vicino uccidilo ammazza lui come no 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 allora aspetta aspetta dato che poldo ha detto sei vicino al re vuol dire che tu non eri vicino al re ok quindi mi è mi è bastato andare verso la gabbia e vedere il primo che si bloccava come uno stoccafisso appena giravo l'angolo eri proprio alla luce del sole c'erano tre persone ferme là perché proprio lui no no non è vero due erano già ferme uno si è fermato appena ho girato l'angolo no non sono d'accordo cazzo se no non ti sparavo non sono d'accordo pane mi chiede sedia ma cosa succede se prendo della melatonina e dei lassativi bro ti caghi tutto il letto ti scaghi il letto ti caghi il letto con la monster che tu metti mi schi tutto con la monster comunque hai 15 npc che puoi ammazzare a random però poi ovviamente rispavano cazzo easy allora beh le palle ragazzi qual è il bonus oh dio santo no raga io non volevo fare il cattivo mi chiamo oh mio vabbè ma che caglio qua sul serio boys sul serio lo fate ma come le aprite qua le smoke bomb con la x ho idea di come si prema la roba bravo ma la finite basta con sta cazzesima e sedia il problema comunque ma da dove cazzo le trovi? le trovi nelle casse nei drop di pubg ciao cristo ciao cristo smettetela ciao poldo io ho salutato cristo cristo ho salutato un berro e però ho salutato uno ciao cristo abbiamo fatto tipo un circo ragazzi non era un cattivo no dove lo era? nine nemmeno quello ciao cristo nemmeno quello ciao si ma voi dovreste essere lì cioè nel senso non è che ce ne sono altri direi ma io non ecco vedi io non vedo più il tizio che macca quindi questo potrebbe contribuire al fatto che noi non vinciamo perchè perchè non fate niente? non sono mica berro che stream sniper ha che cavolo allora io ho letteralmente il cattura schermo su quello che sto giocando perchè non avevo voglia di catturare questo gioco quindi si vede se vi snipero letteralmente plus non sono così intelligente oh my god dove cazzo è il tizio? fatemelo snap snap stabare giuro che non lo vedo dai stabalo ma dove cazzo è? non lo vedo buuuu bravo cristo bravo cristo bravo cristo fate schifo vi odio fate schifo siete i peggiori amici siete i peggiori amici siete i peggiori amici siamo dei gamers basta 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 siamo i peggiori amici? siamo i gamer non siamo i tuoi amici siamo dei gamer basta io chiudo la collaborazione con i Los Hermanos basta così con i Los Hermanos sono invitata al cerbero voglio noi che ci vediamo in live e io dico ragazzi guardate che tu stai qua solo voi state qua solo per i soldi ma quali? non mi ha subito nessuno da quando sto giocando con voi va bene questa è una cosa molto triste perchè io l'ho fatta una sub-off live ecco che si dicono poi le persone quando si dissano? ahhh venduto coglione e le leak della chat di whatsapp ahhh le leak della chat di whatsapp figo vi prego ragazzi mi dovete dire com'è che si fanno le smoke bomb con la x con la x dove cazzano te ahhh tieni i dalli a berrofronzo va bene dopo vado a tornare a berrofronzo sei fortissimo cazzo grazie ma gusto pericento smoke bombe? ma si ricarica? io non capisco ma chi è che sta facendo il coso? io quale coso? il coso coso ciao sedia io buonasera a berro bar berrofronzo stronzi di merda che ho ammazzato? a me godo berro berro ti mando 100 bit se la vinci va bene ma ci sto anche io eh ah ok ormai l'hai detto questo è purple questo è purple questo è purple signore e signori questo è eh io no troppa gente la dovevo sparare a caso mamma mia berrofronzo aspettate un attimo che devo aprire opera che devo lascia stare lascia stare se no poi ti dico che sei stringentere perando hai ragione hai ragione berrofronzo berrofronzo ma poi io ti devo ancora una sabata l'ultima volta che hai disintegrati a quel cazzo l'intente ha indicato che questo canale è destinato a un pubblico adulto non posso più dire disintegrati perchè gli viene l'allergia però ma perchè hai il canale più 18? cioè ti togli il 90% degli spettatori no è berro eh cosa? ah infatti berro c'è il canale più 18 ah si si è vero perchè? ma perchè? è perchè dico talmente tante schifezze tante bestemmie tante volte che si parla di cazzo nel culo che dico vabbè ma questo purple non lo mette più ti toglie un sacco di personaggi cioè di possibilità non ho capito signor poldo ti togli un sacco di spett fra e allora lo tolgo però nel senso beh si ha voglia devi berro più 18 godo chat no no non quel tipo di più 18 calmi calmi non era quello giusto vabbè io comunque i 100 bit te li do lo stesso grazie apprezzo le cose siu ma anche a voi ragazzi grazie per siu plastilina viva la plastilina viva la plastilina lunga vita la plastilina eh vabbè riga porcattore che strage però madonna lunga vita la plastilina boom ok ok questo questo è l'ultimo dov'è l'ultimo mi spieghi come hai fatto ma è andato un po' a caso ha stream sniperato ha stream sniperato ha stream sniperato chiamano la polizia grazie christy's purple grazie christy's purple che figata posso mettere la smoke anche dentro ma non lo spiegare ma non lo spiegare ahahahahah ahahahah dov'è l'ultimo ah eccolo via come eccolo non è vero non sai cosa stai dicendo signori forza forza poldo forza poldo eh fra mi ha visto correre verso di lui ha sbarato nooo ha sborrato ha sborrato ha sborrato ha 10 punti e poldo 11 poldo torna a 10 meritato torna a 10 poi ma come ti permetti e adesso? di nuovo questa cosa qua ah ah di nuovo round 5 ti dici sei vinto non ho capito di nuovo signori di nuovo mi fa male il gomito di nuovo di nuovo allora madonna che schina ghiacciante ma perchè ancora io? nooo ma qui è tipo una delle tattiche che ti puoi iniziare immediatamente a stammare qualcuno a casa ma come funziona qualcuno mi libera per favore ma l'abbiamo chialato in tre appena mi ho spavato eh ho visto uno di tre ha sparato uno di tre mi libera qualcuno per favore mi libera qualcuno per favore mi libera qualcuno per favore aia ma come funziona? nonostante la cella sia libera comunque non posso uscire ha detto quella parola poldo però ti ho liberato cioè questa cosa dovrebbe essere grazie mio dio qualcuno è uscito dalla dalla cosa? dalla prigiona la famosa prigiona se succede comunque che appena vieni liberato ti cambiano anche skin perchè sennò sarebbe un poco troppo antisgama cazzo prigiona prigiona pod leggi la chat e ammazza qualcuno che ne so si sono sabbati e schiere si è sabbato il pollo delle praterie mi ha scritto come ogni mese mi devo sabbare a sedia goditi i tuoi un euro e cinque centesimi minchia si guarda lascia stare ragazzi mancano troppi tocca ammazzarli ok non male non male Elon Musk Elon Musk Elon Musk ha scelto tra l'altro c'è scritto space to stabby stab ma quindi siamo tutti l'impostore noi in questo momento sì il problema regà che dobbiamo ammazzarli perché non non si fa niente nooo L'ultimo, l'ultimo, vai! No, per uno, zio Pera. Perché l'ho sparato a casa, ti giuro. Elon Musk! Guarda, ha vinto Cristo e Sparple. Guarda mamma, non so che lo sbaglio. Questo farà riconsiderare mia moglie il divorzio. Ho giunto anche io il gioco dell'impostore, ragazzi. Ragazzi, Cristo e Sparple ufficialmente fuori dalla religione cattolica. Dai Mates 2. Dalle Brigate Rosse. Doom, grazie del sesto mese. Pesce in panna verso il Prime. Allora, ragazzi, questo gioco ha un problema che dopo due partite diventa noioso. Quindi facciamo, se volete, l'ultimo round con i diamanti e poi andiamo a fare un culo. Grazie. Che ne pensate? Sedia, perché non c'hai, scusa, la V davanti al nome? La che? La V di verificato, sedia. No, ce l'ho. Ah, no, vabbè, forse per il tuo canale non l'avevo ancora messa. Vabbè, quella la puoi cambiare. E che vorrei congratularmi con te ufficialmente da persona nuova. Ma grazie, ma veramente molto gentile, bro. Un bacione. Grazie davvero, perché io sono un partner adesso. Un partner. Sei un partner? Sei diventato partner di Twitch? Partner? Cazzo complimenti, fratello. Dice Elon Musk come se fosse Mr. Beast. Sì, fortissimo lavoro. Com'è attenuto questa partner? Con il sangue e il sudore, ragazzi. Trim smelterando. Con il sangue e il sudore. Mi sono proprio impegnato a raggiungere gli obiettivi. Impegnata, 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 impegnata. Io vi giuro. Che sta facendo adesso? Che sta facendo? No, basta. Questa è fatta sì. Cioè, poi ti lamenti che sei un ciccione, cazzo. Non smetti di mangiare merda durante le live? Ma mi sono mangiato un panino per cena. Non puoi, cazzo, puoi dati una teglia di insalata, cazzo. Ma l'ho mangiato a pranzo. Ma sì, le palle le hai mangiate a pranzo. Ma ora ti giuro, ho mandato una fotopappa. Pranzo, come sono? Ho mandato la fotopappa a Sedia, che era carne e insalata. Verissimo, verissimo. Poldo non sta mettendo, ragazzi. Non è l'impostore. E invece, come cazzo si chiama? Sedia ha mangiato un Krabby Patty. Ieri sera, ieri sera il creatore si è fatto un Krabby Patty. Krabby Patty! Krabby Patty! Se volete vi do la ricetta in privato del Krabby Patty, perché ho scoperto l'ingrediente segreto. Davvero? Sai l'ingrediente segreto. Body shaming. Scusa, volevo accusarti. L'ingrediente segreto del Krabby Patty è il body shaming. Sul serio. Sì, sì. Grazie Nub che ha regalato una sub a Lion VGF. Cosa? Sì. No, hai deflesso la madonna. Sedia, qual è il tuo affettato preferito? Il... Il Tugnus. Il Pongo? Dicci la ricetta, sedia. Ragazzi, se mi donate 20 sub, vi dico la ricetta del Krabby Patty. Va bene? Aspetta che... Te la dico solo a te però, eh. Ah, ok, va bene. Meglio. Piedi, piedi, unlike the piedo, mi piacciono i piedi. No. Finito. Ha vinto Poldo. È il muy caliente de toda Alemania. Scusa una cosa. Stavi facendo tu il coso, no? Il coso cos'è? Chi è che stava facendo il cattivo? Berro. Io, 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 io. Berro, come mi hai fatto a trovare alla fine? L'ultima kill carry? Sì. Che ti ho guardato dritto negli occhi e ti sei piantato fermo guardando. Cioè, il fatto che io mi giro e vedo una persona che è paralizzata dal panico si ferma vuol dire che... Berro fronzo, Berro fronzo comunque... Ha scoperto il metos. No, cioè, eh... Avete presente quelli dell'FBI che devono scoprire il linguaggio del corpo dell'agentità? Berro fronzo è il lavoro all'FBI come secondo lavoro. Esatto, esatto. Però, cazzo, prima ho sparato a tre innocenti nella folla perché qualcuno ha... Questo è vero. ...ha preso un diamante e poi ha sparato immediatamente uno smoke bomb. Io mi sto spaventando di vero. Ho ucciso quattro persone. La sedia a due piselli. Piselli? Ah, che ridere. Bro? Come? Gugu fanno gaga. Gugu gaga. Gugu gaga come bambini. Gugu gaga. Fatto schifo che non c'è il penso. Ti possiamo tirar fuori dalla prigione? Non c'è la prigione. Questi sono i diamantini. Qua è tutti i controluci. Occhi sullo schermo non leggo la chat. È il Baba Boy? Ma perché c'è una persona che si chiama Paul Dociano? Ragazzi, che ansia. Ma che palle, dai! Oh, e se mi muovo sono io. E se sto fermo sono io. Oh, ma cosa devo fare? Devo ruttare. Perro, cagati addosso. E ho la pupa? Si fa la pupa, perro? Eh? Sedia. Si fa la pupa? Adesso dirò una cosa molto... Sparati. Bro, però io lo sai che sono sensibile a queste cose. volevo dire... Sparati una sega. Bro, ma lo sai che io le sega non le posso vedere che sono di legno? Perché ho il canale inappropriato. Ti vuoi muovere a toccare qualcosa, maledizio? Ma no, Cristo della Madonna. Cioè, premo una roba... Ciao, Kerf! Raga, facciamo entrare i sub nella prossima partita... Cioè, i sub, la chat. Va bene. Oddio! Così i NPC diventano la chat. No! Cosa? No! Quello era Berrofronzo, lo so, lo so che quello era Berrofronzo. Avrei visto Berrofronzo. Se li ha beccato solo me perché ha fatto... No, non era Berrofronzo. Cazzata. E che? No, ha beccato anche me. C'è solo Berro. Stupido Berrofronzo. Berrofronzo. Qual è il colore preferito delle serie? Berrofronzo! Oh, nera. Grazie, Briar, per aver regalato una buona... Lion VGF Live. Io non ho regalato niente, ragazzi. Sono povero. No, era Briar, era Briar. Grazie, Briar. Grazie, il primo Redi per il Prime. Grazie, Briar, che regalò una sub. Grande tipo, grande tipo. Lion VGF. Io credo che... Sono proprio la stessa cazzata di prima, magari. Scimmia! Scimmia! Oh, devi smetterla di dire scimmia, comunque. Offensivo verso... Cosa? Le scimmie. Immagino. Eri tu? Sì. Perché? Non devo fare la stessa cazzata! Sì! Porca puttana! Scimmia! Scimmia! Beh, 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 beh... No! Va bene, ci sta. È stato più scaltro di me. Forse. Scaltro che cosa vuol dire, Berro? Per noi che non sappiamo il buca volario? È come scalzo, però con la T. Chatt, voi lo sapete che cosa significa scaltro? Scaltro? Succa! Cos'è? Ma che vuol dire? Perché ti avevo visto, ti sei nascosto dietro un muro e ho aspettato uscissi! Guarda. Sembra quel video della vecchia che gli zooma in faccia con la videocamera e fa... Ehm... Ma ci hai beccati immediatamente, casca! Comunque non siete normali, cioè, secondo me voi state facendo... State facendo... Le... Come si chiamano? Le... Le scheme per gli RCS di questo gioco. Scusate. Mi sono emozionato troppo, mi sono emozionato troppo. Tier Rastraptor! Sei una persona pericolosa! Un soggetto spericoloso! Spericoloso! Spericolato! Spericoloni! Barabim, barabum! Il diamante è mio! Fatti una sega! Chi sta sparando? Sparo il fronzo? Voi non l'avete visto, ma ho dato un calcio incredibile alla sedia! Alla sedia? No, 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 la sedia a due gambe! La sedia normale! Chi è la sedia a due gambe? Brianna, ma la smetti di regalare gli abbonamenti ai personaggi famosi come Leonardo Blue? Ma sta succedendo anche da me! L'ha regalato agli amichetti! Agli amichetti! Grazie, Brianna! Solamente perché qua da me già ce l'ha! Fanculo! Ma io non ho preso quel diamante! Perché mi hai sparato? Ma come? Come non l'hai preso tu? No, io non l'ho preso! Io sono camminato dritto per dritto! Shut up! Cristo is purple! Cristo, fatti una sega! Basta! Vediamo a chi darà di nuovo la sub! È invogliamento alla prostituzione, lì, quelle cose lì! Io faccio la sub a Cristo! Sono concentrato! No, non la faccio la sub a Cristo perché mi ha ucciso! Voi lo sapete? Voi lo sapete che cosa ne penso delle persone che commettono omicidio? Non sono proprio... Grazie, Rob, perché regala la sub a Tier! Non lo ero! Ma Cristo! Sei tu! Me stesso! Wow! Ammazza, berro! Che si sta a fare i putti, Cristo! Ma che fa a Tier? Non ti fare le seghe! Stavo sbag... Cioè, ho detto... Stavo sbocca... Eh? Tu sai i poteri! Cristo is purple! No, città solo quando gli conviene! Città solo quando gli conviene! 39-38! Ho provato a insegnare! Ho fatto 19 punti solo in questa, cazzo! A Call of Duty World! Grazie! Anche da me! Ciao, Figo Man! È a Marco Merrino! È a loro! La sub a Cerbero Podcast! Ma come? È male! Off-Life! Mi hanno regalato la sub a Stream Elements! Eh, anche a me! Manca Marco Merrino! Ti sta simpatico, Marco Merrino? Proprio come persona? Marco Merrino! Con chi stai parlando, Berro Fronzo? Con Poldo! Cos'è sta roba? Sono contento che Berro Fronzo gli importa dell'opinione degli altri, oltre che a Poldo! E poi, Nob, che la regala a Davide! Grazie! Non so chi è Davide, però, è un content creator famosos! 50 euro per un caga col prosuit! Per un caga con... Eh? No! 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 I made a mistake! Devo recuperare i punti persi, raga! Parlando a persone a caso! Non funziona! No, vecchio! No, vecchio! No, vecchio! Grazie, Nob, che regala a Dario Moccia Twitch! Si sta divertendo, ormai! Potete regalarle anche a me? No, che zaga! No, vecchio! Regalatemi una sub a Berro Fronzo, che mi sa che non ho la sub! No, vecchio! E anch'io ce l'ho! No, vecchio! No, vecchio! No! Allora, la cosa brutta è che Cristo vede i nostri vestiti, quindi dobbiamo stare attenti! Ma chi è? Ma guarda che sto io facendo la cosa! Ah, no, è sedia che sta vedendo! È la sedia a due seggiole! No! Dimmi, morci! Le seggiole! Non va! Raga, non va bene! Ma perché io quando faccio... Un guino di merda! Grazie, pane bianco che ha regalato una sabala a sedi e due gambe! Grazie, pane! Così c'ho... Fai schifo, boldo, fai schifo! Rai, mi fa male! No! Per un punto! Per un punto! No, ragazzi! No, ragazzi! Ho il pipo ritto! Sto facendo il pazzo! Sto facendo il pazzo! Aspettila, boldo! Guarda che sto un gioco! È solo un gioco, boldo! È un gioco! È un gioco! È una tua gara perfetta! Guarda che roba! È solo un gioco! È solo un gioco! Sei battuto! Io, ragazzi, comunque, volevo dirvi che il terzo posto è sempre meglio del quarto! Beccati questo, Cristo e Sparple! Ma tra l'altro è bellissimo che all'inizio facevamo 5-6 punti e il primo ne aveva 24, adesso siamo sul livello di 50 perché... Siamo già fortissimi! Tra i argomenti! Bella, rega! Che vogliamo fare? Proviamo la lobby tipo con un sacco di persone o... Vai! Porca te la diventa un ciccio! Ah sì, una sola! Una sola, una sola! Ci chiamo a Fall Guys! Max Player 24! Fall Guys, sono bravissimo io! Signori, il codice della lobby è qua! Potete entrare! Il gioco è gratis! Come si fa a far vedere? Come si fa a far vedere? Se volete entrare, ragazzi, vi ho spammato il codice in chat! Grazie a Briarstar che ha regalato un abbonamento a Poldo Mod! Non quello normale, Poldo Mod! Sta su Steam, regà, il gioco! Avete quasi fatto partire il treno con queste stronzate! Che bravi che siete! Ma come va in bagno? Ma Poldo questa sera è la cosa degli... Think of the children! Non fare la pedofilia, quella cosa lì! Dora la suora è entrata! What? Io ho paura per i nomi che scriveranno, nel dubbio prendo la distanza! Bravissimo! Ragazzi, chi vuole entrare, il gioco è su Steam, è gratuito! Si chiama... Just Act Natural! E la cacca... Allora, utente neutro... Frec! Prego, prego, il codice è in chat! Se volete entrare, siete benvenuti! Allora, grazie a utente che ha regalato 10 sapa! Franci, Pollo Infuriato, Aro, Albertino, Filipper, Fugai, Oni-Chan, Sbluffo, Confluent e Mastri! Oni-Chan! Non me lo trova, zio Pera! Just Act Natural! No, sto iniziando a platinare ori! Ragazzi, vabbè, potete fare quello che volete! Perché se ve ne siete andati? Culo! Ma volete essere... Berro, 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 culo, chi non lo dice? Culo! Culo! Chiappe! Chiappe culo! Pollo, Chan, certo che sei effettivamente stressante! Di che stai parlando? Ma state iniziare il game! Perché c'è una persona che dà quattro volte di fila che dice Berro, ti piacciono gli sgabelli di DC, please! Allora, ecco perché la limito agli adulti, perché... No, dai! Ma che cattivo che sei! Ma gli sgabelli sono i miei, gli sgabelli! Sto scherzando! Sto scherzando! Sentite il cuore, now! Ok, va bene! Sentite questa! I'll dance, dance, dance with my hand now! Oddio, ti ho immaginato con le trecine nere! Mamma mia! Ti ho immaginato con le cuffie rolle! Io ho fatto il ballo di Mercoledì, Adams! Hai fatto il ballo di Mercoledì, Adams! Wow, sei proprio alla moda! Oh mio Dio! Pazzesco alla moda! Ti prego, insegnami ad essere in trend come fie! TikTok! Allora, step uno! Ficcati un dato su per il culo! Siamo in otto in lobby, non sta entrando nessuno, regà! Il gioco non gli piace alla gente, a quanto pare! Perché nessuno sa che sto gioco! Ma tipo di sesso, no, raga, sesso no! Chiaro, chiaro, bisogna scaricarlo! Salvatore, buonasera! Frec! Ciao, Salvatore! Fatto il ruolo, 50%! E lo salvatto il ruolo! Lo sto scaricando! Grazie, Nube, che regalo una sub a Jenna Ortega, giustamente, dopo aver fatto la... La, il, la... La botta, la, 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 la... Io non so dove è che si fa vedere, tipo, la lobby, tipo... Cioè... Jenna Ortega! Spalli di Jenna Ortega! Signore Jenna! Jenna Ortega! Jenna! Con la G! E Jenny! Gennaro Ortega! E' già, Jenna! Comunque posso... Dai, forza, ragazzi, dai! Siamo 11 su 24! Scarecate il game, ragazzi, non fate... Cristo, guarda che non sei in live, non devi parlare alla chat! Io parlo alle vostre chat, io sono... Ah, ok! Johnny Derk o Giorgio Ortega? Jenny Bravo! Io... Io pure avevo voto Johnny Bravo! Jerry Cala! Jerry Cala, fico! Vorrei dire che stiamo facendo scaricare questo gioco a tante persone. Io dovrei chiedere delle percentuali, qui. Minchia, questo è vero. Però in realtà il gioco è bello, raga, secondo me è divertente. Anche perché non lo sta scaricando nessuno. Non ho un computer, Sium. Guardate, mi dispiace. No, raga, come non avete un computer? Ma il computer, raga, serve un sacco. Ma come? Comunque, com'è che faccio a far vedere CopyCode? Come faccio a far vedere... Ragazzi, prossimo obiettivo delle sub di Poldo è vi regala un computer. Beh. Ho regalato un computer a mille persone! Potete cambiarvi l'icona, per favore, maledetti bot? Come faccio a far vedere il codice Poldo? Perché non sento berro? Perché ti parlo, ma tu dici cagate. Perché non parla, berro? Grazie, sedia, grazie. Berro. Prego, P7L. P7L, PP. PP, PP, PP. Ma perché Berro non parla? Perché sedia si chiama così? Come mi chiamo io? Salvo, ciao! Chi sono io? Sono sedia. Ma scusate un attimo. Ma perché il codice nella live di Poldo è diverso da quello che dà sedia? What? Non è vera sta cosa. È vero, il mio è 9ZEWP. Perché sei un babbuino, certe volte. Hai copiato il codice sbagliato. Io ho aperto le vostre live pure su diversi codici. Copi code. Eh, rimettilo. Per me è giusto. Ma tra l'altro è P7LPP, non PL7PP. Ma cosa c'è tra l'altro P7LPP? Smettila di memare. Come si chiama il gioco? Si chiama Just Act Natural. Siamo. È questo. Perché come il nome non ti chiami? Perché se ne entrano due partiamo. Perché è un nome un po' lungo. L'Elix è un po' lungo. Allora il mio nome non è sedia, ma è sedia. 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 Se scarichi velocemente Just Act Natural, puoi giocare con noi. Siamo in quindici, partiamo? Due volte. Sì. Vado? Moro, hai detto Just Act Natural. Buona partita. Ah, dovete mettere tutti pronto. Sì, oh cazzo, adesso. Ciao. Eh, ragazzi, cliccate la spuntina verdina. E anche la campanellina intanto. Sì, dato che ero già reati da un sacco, ho detto permette reati. Grazie, Bria. Siamo tutti pronti. No, 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 no. Diamant Grab. Che è sta bomba di gioco? Non lo so, però è bellissimo. È tipo, cioè, la grafica è spettacolare. La grafica è bella, il gioco fa cacare. Peccato che non fa cacare, però è bello. Sì, ma mettilo a confronto di Elden Ring. Beh, grazie al cazzo. Mettilo al confronto delle shaders di Minecraft. È vero, le shaders di Minecraft è molto importante. Ma adesso sei via. Ma è un disastro. Ma è un disastro. Che se spari a casa... Sì, ma devi camperare in un diamante perché... Grazie, utente, sei un tesoro. Devi camperare i diamanti, se no qua, ciao. Io invito tutta quanta la chat e tutte quante le persone che stanno partecipando a questa partita a spammare le smoke bomb, ma proprio, cioè, in massa, così non si vede più. Ma infatti sta a madre. Cliccate tutti X. a caso. Rocky Balboa! Rocky Balboa. Ce l'ho fatta. Non è la Rocky Balboa. Quanti diamanti che vengono presi ogni secondo? Vai, volgo, becchi. Prova a beccarci. Poi se riesci a beccare me, giuro ti dono una sub. Incontriamoci. Raga, non vedo più diamanti. Li avete rubati... Freak. Che è stato? Sedia! Ma è la sedia! Non sono stato io. Dove è la sua ora? È stato il game. No, dove è la sua ora? Vediamo se riesci a prendermi, Poldo. Se riesci a prendermi... Ma non sono io, stupido! Come non sei tu? Eh no! E allora sei una pippa. Chi è che sta sniperando? Che sta... Eh sì! Ah, rip! Pensavo fossimo noi gang. Sta stream sniperando, Fico. Sì, ragazzi, ma io non riesco a prendere i diamanti. È stata una pessima idea, Poldo. Do tutta la colpa a te. Cristo, come si prendono i diamanti? A che livello? Tu che stai giocare a Minecraft. Minecraft? Eh... 12. Meno 12. Meno 12. No, 12. Anzi, ho preso un singolo diamante. Madonna, se sono io inizio a sparare a tutti. Ha detto sesso, ha detto sesso, raga. Ha detto sesso. Cazzo, non sono nemmeno in classifica. Porca troia, ma quanto cazzo tra l'andate? Ma come cazzo... Raga, è stata una pessima idea, perché adesso la chat può esporre quanto facciamo schifo a questi giochi. Ma effettivamente qua si... Tanto male promere spazio a rando, perché... Sì, mi ha sparato vicino. Su, c'erba. Sium. L'ho preso io. Succa, erba. Madonna, è un disastro. Ormai chi se ne frega del tizio che spara? Di chi è che sta sparando? Non lo sapremo mai. Ah, è Berrofronzo che spara. Spara cosa? Spara le cose. Madonna, ma sta sparando a caso, Berro. Mi ha preso. È l'unica cosa che può fare. No, non è vero, raga. Sì, veramente. Ma stavo camminando dritto per dritto. Per 3,14. Oh. Berrofronzo, smettila. Madonna. Oramai Berrofronzo ci conosce. Basta, chiamo la polizia. Sì, sì. Chiamo la polizia. Berrofronzo, te l'ho detto, è quello dell'FBI con dei problemi, sì. Se riesci a prendere pure Chris is Purple, guarda, Chris is Purple c'è la camadrossa. Sedia, io chiamo la polizia per Berro, basta. Mi sono incazzato. Mi sono incazzato e basta. Deve prendere pure. 112. 112 sui carabinieri? Ma no, ma allora non è Berrofronzo. Ma secondo te non posso mai essere amico delle guardie? Cioè, guardami. Non è Berrofronzo. Salve, vorrei denunciare una persona indice. È Andrea Parisi. Mi dice dove? È su un gioco, si chiama Natural. Si, 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 non ci credo. Ammazzate sto bastardo, un favore. Mi dice dove? Non ci credo che hai fatto il gioco del 2006. Ti è piaciuto? Sì, davvero, complimenti. Ma poi la risposta che era di me, mi dice dove? È incredibilissima. Mi dice dove? Io, 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 sì. Io. Io, io, sì. Che hai chiamato veramente, Poldo? Io, io. Sì, complimenti. Davvero, davvero complimenti a chi ha partecipato. Possiamo smetterla di fare? Ma no, è vero, pane bianco. Poldo ha chiamato i carabinieri. Carabinieri. Sto chiamando adesso sul serio. Madonna, Cristo, ma sei fortissimo. Sono il boss finale io. Pronto? Il penultimo, in realtà, perché... Questa è l'arma dei carabinieri. Di che cosa ha bisogno? Dovrei denunciare un tizio che spara. Dove siete? Vi veniamo, portiamo una pattuglia. Facciamo la contravenzione. Eh, eh, eh... Justtack natural. Justtack può fare lo spelling? Allora, gilunga. G che? No, 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 la g... La gilunga. Gilunga, ha detto? Sì. Va bene, arriviamo a gilunga. No, no. Ragazzi, i carabinieri sono un po' stupidi. Non lo so, ma io credo... Io credo che in realtà ce la stiano mettendo tutta alla fine. Infatti, andiamo avanti. Figa, ma voglio sparare io. I fondi per la polizia di stato sono quelli, cioè per le forze dell'ordine. Cioè, secondo me ce la stanno mettendo tutta per fare quello che possono. Ragazzi, io ho visto adesso... Perché difendi gli sbirri, eh? Io ho visto adesso... Raga, ma perché... Hai visto adesso? Ma è troppo difficile fare questa. Hai visto adesso? Hai visto adesso? Cosa hai visto adesso? Può cambiare l'item, quindi anziché le smoke bomb puoi anche tipo prendere il coso che ti cambi il vestito. Sì, l'ho visto. Eh, l'ho visto. Sì, ma la smoke bomb è molto più sgrava. Smoke bomb è... Truce boys. Truce baldazzi. Oh, però non ci sono diamanti! Ma, ma guarda se deve sparare a casa è più a me! Chi è? È più a me! L'elixu! L'elixu, io ho ammazzato la tua famiglia! Non abbiatelo, abbiatelo! Perché non ci sono diamanti? Perché non mettete i diamanti in questo gioco? Perché ci sono dei cazzi disegnati sul muro? Il livello della polizia è in Italia, ragazzi. Non dite male alla polizia italiana, per favore. Grazie alle forze dell'ordine. Ma sì che gli dico male alla polizia italiana. Quel controllo che mi hanno fatto l'altra sera. Guarda, lasciamo stare. Sì che dico male alle forze dell'ordine, maledizione. Ci devi dire qualcosa, ci vuoi dire qualcosa, per caso? Io voglio dire, ma con tutta la gente che ruba, che fa male, che ha coltello le persone... Ma devi fermare me che avevo solo due chili e mezzo di cocaina. Non faccio male a nessuno! Due chili e mezzo di cocaina? Ma come te? Ma te li portavi con uno zainetto, cazzo? Ma siamo vatti! Prince ha sparato a Prince. Come funziona? Ah no, ma è Cristo! Sono io. Stai un po' sparando a casa, perché ti sei reso conto che... Un po' su 50 persone... Cosa sta succedendo in chat, Bruno? Il dodo? Madonna, l'elixu c'ha il sudore che gli scende proprio da... dal lato della testa, mamma mia! Madonna, preco! Cristo is purple! Cristo spara sotto il bazar, ce n'è tre! Infatti te li dico, dove stanno gli altri? Bravo, bravo! Cosa, hai ammazzato l'elixu? Va bene così, va bene così! Guarda quanti punti! Che sta vincendo Cristo is purple? Madonna! Vai Cristo, vinci, vinci, vinci! Sono... Ma un altro round! Ma basta, su, dai! Ma Cristo live! No, Cristo is purple! Cristo live esiste, Bruno! Ma è vero! Chi è Cristo is purple? Io! Ah, fico! Stavo per imitare la R Mosha, però è molto cattivo! Sesso, sesso in provincia di Reggio Emilia! Non ci sono diamanti, non ci sono diamanti, non ci sono diamanti! Comunque stanno tutti spammando la smoke bomb, addio santo! Sì, non si vede un cazzo! Ci stanno i diamanti, è vero comunque! Bisogna aspettare un quarto d'ora per trovarne uno! Signore e signori, io volevo solo dire che per me è stato un piacere! Per noi, quindi? Voglio campere i diamanti a sto punto, che cazzo faccio? Ragazzi, non vedo niente! Non si vede nulla! Non si vede nulla! Beh, Berro, praticamente devi... Devi vedere se ci sono gli occhiali, sì! Ma Cristo è in live? No, ragazzi! Fate la sabba a me! Oh! Cocca si è messo vicino e ho letto poldocacca per un attimo! Cioè, io stavo vicino a un diamante da mezz'ora, è arrivato uno, se ne è ciulato e quest'altro non li ha neanche sparato! Sono io quello! Sì, l'ho preso! Ma cosa cazzo faccio il... Posso avere un diamante? ...in decay per quest'altro cazzo che non riesce a sparare? È la cacca! È mio! E ti metti... Ma io lo so! Sentite, guardate che io comunque non... Sedia, ma sei un uomo d'affari! Una donna d'affari! Sì, una femmina! Oh, smettila! Guarda che le femmine sono proprio come i maschi, però senza... Non è vero! Come non è vero? Beh, berro! Berro, sei su Twitch! Siamo diversi, siamo diversi! Berro! Fisicamente parlando! Ragazzi, ma se parliamo anatomicamente, no, non siamo uguali! Guarda che le femmine sono uguali ai maschi, smettila! Vabbè, allora ragazzi, la prossima volta che dormiamo insieme io sto nella stanza... Guarda, sedia, smettila con queste battute oppure Twitch ti toglie la partner o ti dà quella successiva? Cioè, te la migliora! Non ci stai dicendo! Ti dà il 70-30! Oh, oddio! Mento torna il 70-30! Fico! Ti dà il 7-30, cioè puoi dichiarare le tasse dopo il progetto! Madonna, magari! No, le luxu, dai! Le luxu! Madonna, le luxu! Non si tratta! No, ragazzi, non ce la faccio più! C'è l'ultimo, poi basta, andiamo a dormire! Madonna, io voglio fare la pappa! 22.10! Io voglio fare la pappa e basta! Ma un'ora e mezza di live, basta per portare la pappa a casa! Io che sto strimando da 3 ore e 41! Sì, ma non ha senso 3 ore, capisci? Cioè, se stai un'ora senza fare sub... Grazie! Oh no, sono di nuovo una femmina! No, siamo uguali, quindi non puoi neanche dire che sei una femmina! Cristo, ti odio! Non sono io, non l'ho preso io! Chi è allora? M'ho ucciso! Perché cazzo si vede una sega! Pane! Pane! Haha, femmina! Shut up! Sempre donna, ragazzi, vabbè! Erba! Va buttando a dichi da murta che ci avrà la live aperta! Ma perché? Non ho fatto niente! E chi la buttando in merda? Cioè, hai sparato a caso, totalmente! Io volevo dirvi, ragazzi, una cosa prima di andare via dalla live... Sì! Sei una femmina sedia! Sono un gamer! E quindi? Come quindi? Sono un gamer! Anche Freca totalmente sparato a caso! Lexu! Llexu! 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 Ti sparo a Novara! Lo ammazzo al Gennelwick! Eh no, sedia, non ci si può... Sedia, sei un babbeo! Sedia, sei un babbeo! Io non sono un babbeo, lo sarai tu! Beccati questa! Chi lo dice lo è, faccia di serpente! Ma veramente, c'è questo qua... Cioè, si grabba diamanti infilandoseli direttamente nel culo, aprendo l'ano a favore di telecamera... Uh, ecco perché è più 18, vero pronto! Un albero, io non lo so! No, ma lo fronzo è nubi! Perché devi essere così aggressivo, chi mi spazio? Piripillo! 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 Sei troppo esplicito, rilascia il più 18! Eh, infatti l'ho fatto! Comunque ragazzi, l'unico motivo per cui stiamo perdendo a questo gioco, come mi suggerisce Nubi in chat, è che non sappiamo comportarci da NPC, perché ovviamente siamo dei protagonisti! Eh, certo! Ma siamo vatti! Ma siamo vatti! Eh no, ha scritto Sigma Melee, in realtà! Io sono un Sigma Melee, non sono una femmina! Palle Bianco sperava di essere salvo di protezione! No, basta, io, io, no, no ragazzi, io non ho parole, io adesso basta, vado nel canale e la sedia di due gambe... Spi classifica, beccati questa, Poldo! Beccati questa, beccati questa, Poldo! Poldo, beccati questa, beccati questa! Sedia, sedia, devi stare zitto, non devi fare altro che stare in silenzio, stai zitto! Che scarso, Poldo, non è neanche nella top 8! Come cazzo sei, sedia? Ma c'è uno che è una papera! Ci sono due che sono papere! Comunque io non vorrei dire, ma c'è l'Elixiu che ha tipo tutte quante le skin super random, quindi questo qua è uno che traiarda e nerda e paga per sto gioco, cazzo! Fico! Immagina! Va bene! Ti odio, ti odio, ti odio, sedia, ti odio, sedia, ti odio, sedia, ti odio, sedia! What, bro? Dai, è stato bello giocare a questo giochino, mi è piaciuto! Ciao, Leli! Mi sono divertito! Ma in realtà è un bel gioco, lo ribadisco! Sì, tipo per un quarto d'ora! Ma non è vero! Tipo fai, oh, bella la grafica! Era una demo, ma come ti lamenti? Madonna! Se no, ragazzi, se dire... Pasquale, Pasquale... Los Hermanos finisce qui! Los Hermanos out!